Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione nata dalla sinergia tra il Consiglio regionale della Toscana e RTV38. In primo piano il tema autonomia differenziata. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno presentato due proposte di deliberazione per avviare l'iter del referendum abrogativo per la legge varata dal governo Meloni che sta facendo molto discutere nella nostra regione e immediata la levata di scudi delle opposizioni in regione toscana. Alla fine si è giunti ad un accordo il dibattito, è rinviato di una settimana. Le due proposte di deliberazione presentate da Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo della legge regionale 86 del 2024 sull'autonomia differenziata, torneranno all'esame del Consiglio regionale martedì 16 luglio in una seduta che sarà appositamente convocata sul tema. La decisione è stata presa dall'Aula in seguito a un accordo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. In apertura dei lavori la maggioranza aveva respinto una richiesta risospensiva con la quale i gruppi del centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, avevano chiesto il rinvio in commissione delle due proposte. Mi sono preso la responsabilità di fare quello che ho sempre fatto in questi anni. Da un lato dare la possibilità alle minoranze di fare opposizione, dall'altra alla maggioranza di poter arrivare ad approvare le norme. Quindi si è deciso di fare un consiglio ad hoc il 16 luglio in cui le minoranze ritireranno tutti gli emendamenti e si discuterà seriamente del merito e non si farà ostruzionismo. Non serve a nessuno, la scelta politica della maggioranza è chiara. Noi non vogliamo che l'Italia venga spaccata in due, che diventi un'Italia ancora più fragile e più debole. Queste sono le ragioni per cui noi crediamo che questo referendum vada fatto e questo è l'accordo che i cinque presidenti dei consigli regionali abbiamo assunto e stiamo lavorando tutti allo stesso testo. Non è che si tratta della maggioranza che in questo momento governa la regione, si tratta di tre forze politiche che stanno trovando un punto di convergenza su una questione importante, quella di chiedere il referendum abrogativo di una legge che noi abbiamo definito ingiusta, soprattutto che danneggerebbe le regioni come in nostro caso la Toscana. Difendiamo gli interessi dei toscani e come tale la battaglia di natura politica. È evidente la contrapposizione, il centrodestra presente nel Consiglio regionale sta difendendo le stanze e le prorogative del Governo nazionale, naturale ed evidente, si è contrapposto a un fronte popolare così come definito che è molto compatto, molto coeso. Per quanto ci riguarda non è una questione di tempi, si può concludere oggi questa discussione, si può concludere domani, possiamo stare qua tutta la notte. Noi non indietreggeremo di un centimetro rispetto al nostro punto di vista, lo abbiamo detto la settimana scorsa in conferenza stampa, questo per dire anche che da parte nostra, da parte del sottoscritto, da parte della forza politica che rappresenta il Consiglio regionale, c'è stata anche una forma di apertura, se la questione è affrontare fra una settimana questa discussione, noi siamo disponibili. Ovviamente abbiamo anche il diritto come forze politiche di esprimere le nostre opinioni e come tali, massimo, martedì prossimo vogliamo deliberare, essere fra le prime regioni in Italia che appunto non soltanto hanno depositato l'atto ma che lo hanno anche portato a casa. A seguito dell'accordo raggiunto tra i gruppi politici, la capogruppo della Lega, Elena Meini, ha annunciato il ritiro di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati sul punto. Il confronto del 16 luglio si svolgerà attraverso il dibattito in aula. Dopo la presentazione di 3.000 tra emendamenti e ordini del giorno collegati alle due PDD che chiedono il referendum abrogativo totale o parziale della legge sull'autonomia differenziata, abbiamo ottenuto il rinvio del Consiglio regionale a martedì prossimo, pomeriggio, quindi di una settimana in modo tale che abbiamo modo di approfondire politicamente e amministrativamente le due PDD che per quanto ci riguarda hanno già diversi vizi di forma in termini di approvazione ricordando che siamo in fase di vacazio legis e quindi la legge non è ancora in vigore e ricordando che non si possono abrogare soltanto dei comma, di alcuni articolati all'interno di leggi e norme ma esclusivamente l'intero articolato. Quindi noi siamo ancora più convinti della nostra posizione sull'autonomia differenziata ma siamo altrettanto soddisfatti del nostro lavoro in aula affinché ci sia un voto consapevole da parte di tutti i consiglieri regionali su quello che per noi è un tema centrale per l'Italia intera che è quello dell'autonomia differenziata e di più potere e competenze alle regioni. L'opposizione oggi ha messo nell'angolo la maggioranza e l'ha costretta a rinviare di una settimana il punto all'ordine del giorno e credo che questo sia un fatto che per noi vuole rimettere al centro i cittadini toscani e l'importanza che l'autonomia differenziata ha per i cittadini toscani. In particolare per tanti argomenti, per tanti temi che la regione può richiedere al governo di trattare in forma autonoma come l'energia e in Toscana parliamo ovviamente in particolare della geotermia, dell'ambiente e quindi anche relativamente ai parchi e al sistema ambiente, al lavoro, alla formazione e alla valorizzazione anche della cultura perché noi in Toscana oltre i musei che fanno riferimento agli uffizi abbiamo anche un sistema museale di 38 musei quindi sono opportunità che per quanto ci riguarda devono essere nelle mani dei cittadini toscani. Ormai passato praticamente un mese dalle elezioni europee e amministrative elezioni che hanno avuto delle conseguenze anche all'interno dell'aula del Consiglio regionale della Toscana Nelle ultime sedute è arrivato il via libera alle surroghe di Francesco Torselli che è entrato nel Parlamento europeo e di Ilaria Bugetti divenuta sindaca di Prato. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Francesco Torselli, eletto al Parlamento europeo e la surroga con Sandra Bianchini, prima dei non eletti della lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione Firenze 1. Io devo un cammino importante perché quattro anni in Consiglio regionale non sono una passeggiata, quattro anni in Consiglio regionale ti insegnano che la Toscana arriva prima di tutto io nel discorso di saluto all'aula ho citato una data, quella del 2 novembre del 2023 che è stata forse la giornata più difficile in questa legislatura per la Toscana quando tre province ma non solo sono finite sott'acqua in quella notte credo che abbiamo dato tutti dimostrazione di cosa significa essere al servizio della Toscana nessuno di noi ha fatto un minuto di polemica politica nessuno di noi ha fatto un minuto di attacco politico in quel momento ma abbiamo deciso di spalare tutti nella stessa direzione nel vero senso della parola quello significa essere consiglieri regionali e amministratori di questa regione significa essere da sempre i più di parte di tutti noi siamo fiorentini poi abituati a dividerci su tutto e su tutti ma al tempo stesso essere consiglieri regionali significa che dopo che ti sei diviso e che ti sei detto in aula di ogni poi c'è un bene supremo che è la regione toscana ecco questo è l'augurio che faccio a chi verrà dopo di noi, a chi verrà dopo di me in Consiglio regionale a chi verrà dopo di noi nelle prossime legislature di avere sempre a cuore la regione toscana e pensare che questa viene sempre prima di tutto Sandra Bianchini laureata in scienze politiche ha svolto un master in psicologia del lavoro e si è sempre occupata di selezione, gestione e sviluppo della personale ho sicuramente dei temi su cui in questo anno e mezzo poi non sappiamo bene ma che voglio affrontare voglio incidere sicuramente il primo tema è quello del lavoro perché io provengo da quel settore, io sono una manager che è sempre occupata di lavoro e quindi questo è il mio tema in cui credo molto e vedo che negli anni non è stato mai fatto molto sul lavoro, sull'impresa l'impresa naturalmente correlata al lavoro su un certo target di lavoratori che sono i giovani, le donne e gli over 50 quindi lavoro, formazione e impresa è sicuramente il primo tema il secondo tema che è molto attuale purtroppo è sollicciano sollicciano perché è un problema, l'inferno di sollicciano è un inferno che non è di qualche mese è un inferno che va indietro nel tempo dovuto sicuramente anche a una direzione e una gestione non efficace quindi poi mi occuperò di quello che è nell'ambito regionale adesso sicuramente la prima volta abbiamo un governo che si occupa di sollicciano il Consiglio regionale della Toscana al tempo stesso ha approvato all'unanimità la presa d'atto delle dimissioni del consigliere Nicola Ciolini che era subentrato in sostituzione della consigliera Ilaria Bugetti eletta sindaca di Prato e la surroga con Marco Martini secondo dei non eletti della lista APD nella circoscrizione provinciale di Prato mi fa molto piacere, ricevo, prendo un testimone importante perché ha fatto un grande lavoro nella sua commissione alla presidenza della commissione 2 e anche per tutte le iniziative che ha portato avanti quindi sono davvero felice di poter rappresentare il distretto pratese l'area pratese nel contesto del Consiglio regionale anche se ovviamente dobbiamo tutti lavorare per la nostra bellissima regione toscana però nel distretto abbiamo diverse realtà non voglio chiamarli problemi perché sono le gestioni vorrei dire ordinarie di quelle che è l'amministrazione di un territorio e quindi questioni molto importanti che riguardano l'economia del distretto che riguardano il lavoro e il lavoro giusto che è importante Il Consiglio regionale della Toscana con il suo presidente Antonio Mazzeo ha presentato la terza edizione del premio David Sassoli Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha accolto a Palazzo del Pegaso i vincitori delle passate edizioni del premio Miglior Tesi di Laurea David Sassoli per un appuntamento speciale e la consegna delle pubblicazioni degli elaborati vincitori Nell'occasione è stata presentata l'edizione 2024 del concorso dedicato all'ex presidente del Parlamento europeo che destina 20.000 euro in 5 premi alle migliori tesi magistrali a tema all'Europa, alle regioni e ai cittadini realizzate da studentesse e studenti degli Atenei Toscani Il bando scade il 16 settembre Per me è stata una grande occasione e anche un privilegio sia proprio per la soddisfazione di vincere un premio per la propria tesi di laurea ma anche proprio per l'opportunità che poi ha dato di visibilità grazie alla pubblicazione della tesi anche il fatto che ci sono dei professori che hanno letto la mia tesi e hanno deciso di premiarla e anche le strade che in modo anche indiretto questo premio mi ha aperto poi successivamente L'idea di partecipare è nata un po' per caso perché ammetto che credevo non fosse la mia tesi, essendo una tesi magistrale in architettura credevo che non fosse centrata sul tema del concorso In realtà si è rivelato non essere così Il lavoro che ho presentato mira a studiare possibili condizioni di diciamo forme varie di violenza nello spazio di confine in particolar modo ho studiato il sistema hotspot che è stato implementato dall'Unione Europea dopo la crisi dei migranti del 2015 Io ho scritto una tesi in diritto amministrativo europeo che si prefiggeva di osservare in che modo stessero mutando i rapporti tra amministrazione italiana e amministrazione dell'Unione soprattutto alla luce di tutte le sollecitazioni che l'Unione sta affrontando in questi anni in particolare la pandemia da Covid prima e poi la guerra in Ucraina dopo e poi appunto poter partecipare a questo premio io avevo partecipato alla seconda edizione quindi la prima avevo già avuto modo di vederla insomma di conoscere alcuni dei vincitori che erano della mia università e quindi appunto è stato prima di tutto una bella sfida partecipare e poi un onore poter vincere il premio perché insomma è una bellissima iniziativa che mi rende davvero orgoglioso di questo riconoscimento e si chiude qui questo appuntamento con la voce del Consiglio ricordo che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana anche attraverso i social e il portale web detto questo grazie dell'attenzione e buon proseguimento a nostra compagnia Grazie a tutti Grazie a tutti